Pam 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 Ok Ci siamo adesso qui Farò una cosa molto intelligente È tipo il terzo episodio che registro Però Sarà solamente il secondo che caricherò Perché? Perché? L'altro è andato un po' malino Nel senso l'ho registrato Tentando di registrare anche l'audio di gioco Ma praticamente era uscito questo qui Che io parlavo Ma in realtà si sentiva solo l'audio di gioco quindi Adesso ho deciso di tenere l'audio di gioco Decisamente più basso Della mia voce appena audibile Ma almeno si capisce Cos'è dico io Il problema è che il mio programma Per registrare Il video dal telefono Purtroppo non Permette Di registrare sia l'audio Del telefono che la mia voce In maniera separata Quindi prende tutto Assieme e quindi In realtà sta prendendo l'audio del gioco Dal microfono Che si trova accanto alle cuffie quindi Hey! Fanni! Però vabbè fa niente Purtroppo nel video prima Ho sbloccato questo personaggio E vabbè Fa niente Speriamo che non vi arrabbiate Speriamo che non vi arrabbiate No Prendiamoci questo Monete Ah vediamo un po' Così facendo Quanti ne compro? Uno E' una madonna Cazzo ne compro un sacco Prendiamoli tutti Eh Nuovo eraro bro alla 30 Siiii Non ho intenzione di comprare Niente Tipo Cioè vedi Questa qui che è la mia preferita per ora Però c'è anche lei Potrei provarla Proviamola Tanto miglioriamo anche lei Allora Proviamo Lei E vediamo come va Allora Intorinando dovrebbe essere A distanza anche lei Però non allo stesso modo Una cosa un po' particolare Vediamo un po' Ok Il tempo di ricarica è più alto È più basso Vediamo se Ultimamente purtroppo Non va a pulire Il campo Bensì Crea praticamente un alleato È praticamente Animi di Big of Legends Corso Un luogo Un luogo Un luogo Un luogo Ok, abbiamo, scusatemi, purtroppo io quando mi concentro in videogiochi smetto di parlare, non è proprio un'ottima abilità per fare gioco e altro assieme, lo so, me ne rendo conto, però non è facile per me, non ci sono abituato, di solito gioco da solo in una stanza al buio piangendo. Dobbiamo abbassare ancora di uno. Questo è anche un altro, io volevo giocare con voi, voi non volevate giocare più con me, cattivi, cattivi, metto in un angolo a piangere. Allora, in teoria con questo programma posso prendere anche la webcam, però fa davvero schifo come cosa, quindi non lo farò. Sorry, ma cioè, è davvero cringe. No, di nuovo gli stessi di prima, dai. Ok. Ho ucciso uno. Boom. Sono vivo per miracolo, quindi vediamo di riprendere la vita. No, decisamente mi piaceva più l'altro con il fucile a pompa, questo è un po' mi cringe. Non riesco a sportarla bene. Ok. Da solo ho dieci. Aver power. Mamma mia. Faccio dei dieci. Grado due. Grado nuova, ok. Montone di battaglie esaurite, ok. Figo. Quindi, allora, loro ho il bonus tipo, bonus giornaliero, che si accumula ogni tipo cinque ore. Ne posso prendere. Venti. E per tutte partite. Ok, non me l'ha fatto fare un altro game. Adesso sono letteralmente sbagliato sul letto, quindi non giudicatemi se sentite i rumori. Proviamo il pistolero. L'uomo della colt. Mi sembra molto colt lui. Capita? Perché è intelligente e colto. Suicidatevi, vi prego. Uccidetemi. Discrivetevi, vi prego. Sì. Sì. No. Cazzo. Che fa la sua ultimate? Non lo so. Ok. Praticamente è Lucian, ok. Vagia puttana. Puttana. Sono vivo. Ci faccio tutte le cose io? Ne ho ucciso un altro, ok. Autogiocare da solo. Oddio mio. Sono potente, posso dirlo? Sì. Su 6 gemme 6 ne ho io. Ok. Come fare magie, proprio. O tu salvare un game da solo. Dai, prendine una, ti prego. Se muoio io è finita. Via, 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 via. Ti prego, nasconditi. 6, 5, 3, 2, 1. Nascosto in un cespuglio, che disgrazio. Disgrazie ad uomo che sono. Però ho vinto, quindi è vuoto. Maruco. Eh, dai, procedi. Oh, me l'hai. Ho stato fortissimo. Lo potente. Però dà davvero pochissima roba. Cioè, si va avanti molto lentamente. Il che è un po' mi turba. Andiamo con lei. No, volevo andare con lei. Non mi guardate. Via. Allora. Sovvivenza, singolo. Sarebbe figo avere, tipo, anche una chat di gioco. Sai, per fare le duo. Tipo. CS. CSGO. Non ho degli ottimi esempi. Sono sincero. No. 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 Sono potente! Scusate, ero concentrato nel far fuori mezza mappa. Che cazzo? Guarda che... quella roba è sgrava, sgravissima. Da casa mia mi colpisce. Vabbè, e vabbè, posizione terza, dai, non è male. E siamo stati pure di grado. Bene, ma non benissimo credo. Oh, livello 100, abbiamo preso qualcosa di nuovo. Ok, sblocchiamo qui in diretta con noi. E adesso con questo chiudiamo questo video. Spero che a questo giro l'audio vada bene e che non faccia schifo come negli altri che si senta almeno la mia voce. E non solo... E l'audio di gioco, ok. Dopo questo enrape, mi dispiace, lasciate un like, commentate per sapere se questa cosa vi piace o meno. E... Niente, alla prossima. Iscrivetevi e lasciate la campanella importante. No, 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 non è caduta. planur'